La Camera di Commercio di Arezzo al fianco delle aziende che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro è stato infatti pubblicato un bando per l'erogazione di voucher in favore di queste aziende che potranno così beneficiare di un contributo. Per spingere ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro e per sensibilizzare ulteriormente le imprese del nostro territorio che devo dire rispetto al resto d'Italia sono già particolarmente sensibilizzate abbiamo fatto questo bando mettendo a disposizione delle risorse per le imprese che vogliono fare alternanza scuola-lavoro è un bando che partirà dal primo di giugno con retroattività al primo gennaio dell'anno in corso e che permetterà a ogni impresa che ha intenzione di fare alternanza scuola-lavoro di avere l'abbattimento di tutta una serie di costi. Il contributo ammonta 600 euro per ogni percorso di alternanza scuola-lavoro per una durata minima di 40 ore e per un massimo di 3 percorsi. Questo consentirà, come dire, alle aziende di ospitare i ragazzi, i ragazzi di beneficiare di un'esperienza in azienda che li avvicinerà a quello che sarà un domani il mondo del lavoro e nel presente di poter respirare quello che è il clima dell'azienda respirare quello che significa lavorare per obiettivi e, come dicevo prima, in fondo cominciare a capire cosa li aspetta domani nel mondo del lavoro. Il bando sarà accessibile a tutte quelle imprese che vogliono ospitare i nostri giovani studenti dal primo di giugno fino al 30 di novembre. Il format è scaricabile sul sito della Camera di Commercio e le spese saranno ammissibili sin dal primo di gennaio.